Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà correnti umide atlantiche transitare sull'Italia centro-meridionale per un centro di bassa pressione posizionato sulla penisola iberica che però appunto spinge della nuvolosità anche da noi. Con poche conseguenze ma qualche pioggia arriverà. Cominciamo però dalla nuvolosità attesa sul nostro paese con le nubi che insistano diciamo soprattutto al centro-sud mentre per le regioni settentrionali prevediamo ritorno di ampie zone di sereno e quella nuvolosità porterà anche delle precipitazioni deboli, sporadiche, di breve durata inizialmente nell'Italia centrale in trasferimento poi verso il sud peninsulare però come vedete nulla di così eccezionale quindi in definitiva ci attende un martedì nuvoloso al centro-sud diciamo con anche delle piogge prima nell'Italia centrale in trasferimento poi verso il sud peninsulare però ripeto precipitazioni non particolarmente intense e davvero occasionali e di breve durata al nord ampie zone di sereno però vi segnalo un calo delle temperature al centro-sud al contrario al nord ma specie al nord-ovest anche grazie a venti di Fön temperature in temporaneo aumento con questo è tutto per sapere nel dettaglio cosa capiterà dalle vostre parti scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo